Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La famiglia reale britannica è colpita da una nuova tragedia con la scomparsa di Thomas Kingston, il marito 45enne di Lady Gabriella Windsor. Thomas, amato membro della famiglia reale, aveva sposato Lady Gabriella nel 201 nella cappella di San Giorgio Windsor, con la presenza della regina Elisabetta. La notizia della sua prematura morte ha scosso la famiglia reale, con il re Carlo e la regina Camilla esprimendo le loro condoglianze e il sostegno a Lady Gabriella, attualmente la 57esima in linea di successione al trono. Thomas Kingston è stato trovato senza vita nella sua residenza nonostante l'intervento tempestivo dell'ambulanza. Un'indagine è in corso per determinare le cause della morte, al momento non ritenuta sospetta. La notizia della sua morte è stata resa pubblica ieri, durante la messa in ricordo di re Costantino II di Grecia. L'assenza del principe William durante questo momento difficile è un dettaglio notevole che non è passato inosservato.